Ciao a tutti ragazzi, bentornati in un nuovo video. Oggi siamo su Minecraft e sono con un mio amico che mi ha regalato il gioco premium di Minecraft e quindi lasciate un mi piace per il mio amico che tutti lo stimano, come ti chiami? Mi chiamo Raiden! Si chiama Raiden, capito? E madonna, ora minchia io è le prime volte che sto giocando in queste modalità e sto amico qua mi sta insegnando che siamo in modalità TNT, che tu devi scappare dalla morte, capito? Oddio! Corri! Ma attento a non cadere, non cadere! Corri, corri! Minchia, è in marcia sta matta, oh! Eeeh, ce la diffic... ma anche sotto si ponde, ma scusa, io posso andare sotto! No, non cadere perché se... non cadi c'è più... madonna, io... minchia, lagga un po'... lagga un pochettino... io sto provando... sto provando... a scappare in modi incredibili... e madonna, minchia, però non tiro le frecce perché c'ho paura... perché rallentano... oh oh... io sono qua... addio... addio mia... ragazzi, c'è un pericolo... io sono ancora su, e tu? io pure, sono di trinite dentro... è un grande... no, sono caduto... nooo... al secondo piano... madonna, ragazzi... no, 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 no... ehm... sono quasi morto, te lo dico prima... sono caduto al secondo piano... nooo... ok, sono morto... no, sei caduto proprio tutto... si... eh beh, tu sei più forte di me... no, ma va... so scarso... mia, sto provando... a... a levare... cioè a levare il pavimento a sto tizio che è... cattivo, crudele... mi vuole uccidere... ricordati del doppio salvo... vediamo se riesco a levarle il pavimento... comunque, ma iniziere una serie su questo... questo minchia... ehm, per forza, ragazzi, bisogna fare una serie incredibile perché... cioè, minnecraft è il gioco preferito di Peppin... nooo... oh mio, sono ancora salvo... nooo... 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 ehm, sono un pirla... sono caduto perché volevo saltare nell'altro blocco... ok... madonna, ragazzi... siamo in una nuova mappa... è un'arena... è quello che abbiamo fatto prima... si... ehm... è un'arena giganterrima... guarda questo qua ti sta al contento, non fa a posto, guardalo... superman... bastardo, bastardo... 4... 3... 2... 1... buon annooooooo... ma non è capodanno? ehm, no... è natale... ah... che ne so... ehm... mi ha fatto un caldo fuori che... si capisce più niente... eh, natale... però... mi piacciono da caldo... ah... guarda, ho bisogno di più di te... ah, vingia, c'ho paura che mi fanno cadere, bastardi... bastardi... ah, ma io non mi fermo mai, cioè, cosa mi interessa? sparare... che cazzi... ma no, mi ha fatto cadere già... mi ha... distrutto l'animo... tu dove c'è? e ricordagli del doppio salto, ok? ah, si, aspetta che... ti met... no, no, sbagliato... metto la tua visuale, vediamo... allora, questo qua è il mio amico che... ricorda come ti chiami? Kaidein Kaidein... eee... madonna, guardalo, guardatelo... oddio, ha rischiato la morte in un modo incredibile... staccava la telecronaca, salta, salta, doppio salto... corre lungo i bordi, incredibile, salta, salta... schiva tutti i cubi... una... becciate... delle mosse che mai viste... e anche nei film di parkour incredibili... guardate come schiva tutti, mingia... fai gesti con la testa per sbeffeggiare l'avversario... eee... corre in un modo estremo... in centro della mappa, sbeffeggiando tutti... non vado mai visto nell'universo... eee... guardate come salta... si è messo all'angolo, attenzione, nei momenti di pericolo però... schiva tutti... schiva la morte... schiva le passioni... allora salta... eee... dooooo... mingia ragazzi... come ti senti dopo questa morte? eee... mi sento distrutto... si sente distrutto... un eroe perduto... nei meandri degli abissi blu... un panino... sono un panino ricordo un panino e vabbè ragazzi spero che vi piaccia questa nuova serie su Minecraft ora che il mio amico mi ha dato l'account gratis devo giocare cioè faremo sicuramente dei video poi anche se qualcuno di voi ha Minecraft gli faccio anche con lui